Come si forma il passato progressivo, il past progressive, in inglese? Useremo il past simple del verbo essere, to be, più la forma ing del verbo di cui vogliamo fare il passato progressivo. La struttura della forma affermativa è la seguente, userò il soggetto, il passato del verbo essere più la forma ing che mi formano appunto il past progressive e i complementi. Quindi, prendiamo il verbo to drink, I was, passato dal verbo essere, drinking, I was drinking, la forma ing del verbo to drink, e così via, you were drinking, it was drinking, eccetera, eccetera. Qui avete delle frasi di esempio che potete ascoltare tramite i file audio. La forma negativa è molto semplice perché, essendoci il verbo essere, userò la regola per fare le forme negative con il verbo essere, cioè userò il not dopo il verbo essere, anzi, nella forma più usata e colloquiale dovrò farne la contrazione. Quindi, I was not drinking, in realtà I wasn't drinking, you weren't drinking, e così via. Anche qui, frasi di esempio. Forma interrogativa e interrogativa negativa, molto semplice, userò anche in questo caso la regola che riguarda il verbo essere, cioè si pone il verbo essere davanti al soggetto. Dopodiché userò la forma ing del verbo e i complementi. Se è interrogativa negativa, naturalmente userò il passato del verbo essere col not, e poi soggetto, forma ing del verbo e complementi. Quindi, was I drinking, were you drinking, was he drinking, nella negativa, wasn't I drinking, weren't you drinking, wasn't he drinking, e così via. Nelle risposte brevi, in questo caso, facciamo riferimento al verbo essere, quindi, were you drinking a glass of water, yes, I was, no, I wasn't, quindi useremo il verbo essere nella forma affermativa o negativa, a seconda se la risposta è yes o no. Se c'è un nome di una persona o di più persone, useremo il pronome personale corrispondente, Ron è un maschile, quindi he, se fosse stato Susan avrei detto she, se fosse stato Ron and Susan were, Ron and Susan drinking water, avrei risposto yes, they were, no, they weren't. Quando si usa il passato progressivo? Il passato progressivo si usa con azioni che erano già in fase di svolgimento, quando se ne verifica un'altra, resa con il pass simple. Vediamo subito un esempio, così ci chiariamo subito l'idea. She was playing tennis when she saw Mike. Quindi, io sto dicendo che lei stava giocando, o giocava, posso tradurlo anche con l'imperfetto in italiano, giocava a tennis quando a un certo punto vide Mike. Quindi, c'è un'azione in fase di svolgimento che è quella di giocare a tennis, quando a un certo punto poi se ne verifica un'altra, e in questo caso uso il pass simple, when she saw Mike, quando vide Mike. Oppure, while she was watching TV, mentre stava guardando o guardava la televisione, her mother called her, la sua mamma la chiamò. Oppure, il pass progressive si usa con azioni che accadono contemporaneamente, nello stesso momento, naturalmente sempre nel passato. While Brad was reading the newspaper, his wife was talking on the phone. Mentre Brad stava leggendo o leggeva il giornale, sua moglie stava parlando o parlava al telefono. E infine, con azioni avvenute in un periodo determinato. Ad esempio, in 1981, I was working in an Italian restaurant in London. Nel 1981 lavoravo in un ristorante italiano a Londra. Qui sto determinando un periodo preciso in cui ho svolto questa azione del lavoro in un ristorante italiano di Londra. Qui ci sono i cinque esercizi interattivi per esercitarvi sull'argomento che abbiamo affrontato.